Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con il podcast ufficiale del canale. Sta andando avanti da un po', ci sono sempre un sacco di ospiti interessanti e l'ospite di oggi è particolare perché ci racconterà di alcune realtà di un portale, perché molte cose magari le persone non le conoscono e io sono sicuramente tra quelli, ok? Oltretutto è un mio amico, lo conosco e perciò sono facilitato in questo, diciamo così, una volta tanto. Quindi, ragazzi, Daniele di Player.it, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, ciao Pietro. Sono qui, sono pronto a qualsiasi domanda e qualsiasi chiacchierata. Va bene, ovviamente questa qua è una chiacchierata super informale, quindi è una cosa super tranquilla. Ovviamente io ti ho presentato come responsabile di Player.it, però ovviamente tu puoi presentare anche un pochettino meglio tu stesso probabilmente, ecco. Allora, sì, gestisco da due anni e mezzo, Player.it, siamo nati, per volere, di un'azienda che lavora nel web qui a Giulianova, in Abruzzo. Dopo aver fatto diversi progetti con loro, mi hanno chiesto, vogliamo avviare qualcosa di più giovani? L'ho detto, sì, guarda, il mio ambito da sempre sono i videogiochi, i giochi di ruolo, facciamo un sito che comunque parli delle due realtà e le faccia un po' e le unisca un po'. Poi da lì abbiamo iniziato a fare un recruit, abbiamo trovato una quindicina di redattori, poi dopo sono diventati 25, poi sono tornati 20. Siamo diventati testata giornalistica, registrata. E ora stiamo facendo il solito processo editoriale, cioè il solito lavoro da testata. Cerchiamo di fare un'informazione un po' diversa, un po' più sulla slow news, anche se ultimamente col covid purtroppo dobbiamo fare un po' di economia di contenuti, quindi si va anche a trattare robe un po' più frivole, perché non c'è tanto da parlare in questo periodo, perché tutte le software house sono un po' ferme. Saltali tree, quindi è un po' complessa la situazione. Per quanto riguarda me, sono un fotografo, faccio fotografie da più di 10 anni, specializzato in concerti, però ecco, diciamo che videogiochi e giochi di ruolo sono la mia passione dalle medie. Gioco di ruolo da quando ho 12 anni, ho giocato di ruolo dal vivo per 10, no, per molto di più. Fammi fare un rapido conto, ho 30 anni, ho iniziato a 16 con Vampire, sono 14 anni. Gioco di ruolo dal vivo, anche se gli ultimi due o tre anni il tempo è tiranno e non si riesce. Infatti, io seguo la vostra testata già da quando è nata, praticamente, infatti, e l'ho sempre suggerita. Oltretutto ho visto che... Si è un attimo frizzato il video. Ah no, è ripartito. Ok, ok. Allora, ho visto che effettivamente il concetto di slow news, voi l'avete applicato un bel po', nel senso che, a differenza di altre testate che lanciano cose brevi e veloci, tipo a mitraglia, voi fate più approfondimenti, più cose lunghe, eccetera. Questa cosa l'ho sempre apprezzata tantissimo e a chi l'ho consigliato, insomma, hanno apprezzato un pochettino tutti. Grazie. All'interno di questo, quello che ti volevo chiedere, perché c'ho un sacco di curiosità e scommetto che anche altre persone ce l'hanno, un po' di... adesso che ti siete trovato in questa situazione, che siete una testata registrata e che siete sul mercato, tra virgolette, da un pochettino, qual è la vita da portale, cioè da testata? Perché molti magari non se l'immaginano che cos'è, insomma. Allora, sì, partiamo un attimo dalle basi. Per quanto riguarda le testate registrate, ci sono ovviamente delle distinzioni tra l'online e il cartaceo, che hanno comunque delle sedi fisiche. Noi abbiamo una sede fisica, però è una sede quartier generale, dove ci sono i programmatori, c'è il SEO, c'è il Search Engine Optimization, quindi non il CEO, il SEO. Programmatori SEO, ci sono io che faccio da vice direttore, c'è il direttore de facto, che sarebbe anche il nostro finanziatore, che è Antonio, che è la persona che finanzia l'intero progetto, l'intera azienda, che comunque mi ha delegato maggior parte dei poteri decisionali, soprattutto riguardo la parte editoriale. E poi ovviamente lavoriamo di smart working, da prima che lo smart working fosse cool. O necessario. Esatto, si lavora di smart working, abbiamo ad esempio 5 redattori napoletani, abbiamo una redazione tutta di Torino, di 10 persone, che trattano i giochi da tavolo. Adesso sono un po' fermi, perché sono fermi da due mesi, perché nessuno sta spedendo da un bel po', purtroppo. Eh sì. Quindi sono totalmente fermi. Abbiamo la parte del gioco di ruolo, che è sparsa in tutta l'Italia, e ovviamente c'è una buona base anche in Abruzzo e Marche, dove sono diversi redattori del centro Italia. Si lavora. Tanto qui dalla webcam si vede che sto con la coperta e il pigiama. Il tipo di ambiente casalingo, sì esatto. Allora sì, per farvi immaginare il lavoro, noi ci coordiniamo su un Telegram, abbiamo 7 chat, tutte tematiche, dove c'è la chat di spam, dove veramente spero che nessuno entri mai al di fuori della redazione, perché dentro è, diciamo che è un mosh pit di violenza. Ok. Scherzo. È frustrante entrarci perché ci sono dai 500-600 messaggi al giorno, si parla di tutto. E soprattutto aiuta il teamwork, aiuta la redazione a fare community interna, che è la cosa più importante. Dopodiché ci sono le chat operative, dove c'è una chat dove si segnalano le news dall'estero, perché di solito le fonti principali sono Kotaku, IGN America, PC Gamer, GameSpot. Da lì di solito arrivano la maggior parte delle notizie, perché gli stessi publisher, gli stessi editor, li fanno trapelare sempre roba attraverso loro, e poi vengono utilizzati come fonte dal resto del mondo. Cioè, quindi quando molte persone dicono, eh, vabbè, sono notizie tradotte, diciamo che sono l'equivalente delle nostre agenzie stampa, come possono essere ANSA, AK, come si dice... Vabbè... Ce ne sono tante, sì, 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 quelle di stampa tradizionale. Esatto. In America ci sono testate che fanno da uffici stampa, in un certo senso. Non è regolamentato come da noi, però vengono utilizzati in quel modo. Poi, ovviamente c'è anche un lavoro di ricerca, di ricerca fonti, perché, insomma, lasciamo le fake news, i city bait, quelli con i virus, perché ce ne facciamo informazione, e quindi quando si trapela qualcosa, andiamo sempre a cercare le fonti, dopodiché andiamo a vedere i tweet, andiamo a vedere le dichiarazioni, se è possibile mandiamo un'email. Il nostro concetto di slow news verte molto su questo. Andiamo a contattare i PR delle aziende, andare a chiedere, guarda, è uscita questa cosa, è vera? Ne possiamo parlare? Non nel senso ne possiamo parlare, perché ne parleremo comunque, perché la stampa è libera, però andiamo comunque a chiedere delucidazioni, per poi creare una news che sia comunque un'integrazione di quello che si sa. Esce sempre dopo le altre testate, però cerchiamo di avere almeno la possibilità di dare un qualcosa di autorevole, verificato, è un lavoro diverso. Infatti le nostre news escono sempre 5-6 ore dopo, tranne quelle palesi, tipo un tweet che dice esce il gioco X, lì non c'è tanto da fare fact checking, perché sono i canali ufficiali. Però già indiscrezioni, cose simili, bisogna prenderle con le pinze. Sì, questa è una cosa che chi segue l'ambito videoludico sa da un bel po', perché ogni volta girano dei rumor, che poi è molto difficile verificare, rilanciati da un sacco di testate che effettivamente stanno cercando di fare notizia, però poi l'utente non sa realmente se è fondato. Poi un sacco di persone se ne lavano le mani dicendo vabbè sono solo rumor. Dico così. Sì, fondamentalmente posso spoilerarti anche due verità nascoste, due inside job. Vai, vai, vai. Allora, aspettate che mi si... Un attimo. Eccomi. No, mi si stacca il cavo della cuffia e non ti sento, quindi... Ah, ok. Perché sto con l'alimentazione che non si è ricaricata prima, me lo scordo di attaccarlo. Allora, sì, due inside job. Allora, in primis, bisogna pensare a come vengono trasmesse le news, come... Da dove vengono lette. Allora, il primo reader principale di news è Google. Quindi Google News e Google. Non Google News nel senso che vai su Google e clicchi sul tastino News, ma il feed che ti fa comparire Google quando cerchi un qualcosa è il feed che ti appare quando, ad esempio, apri il cellulare Android e ti mostra le notizie del giorno con lo swipe a sinistra, ad esempio. O semplicemente quando vai su Google che ti mostra delle news. Quella è la principale fonte di notizie, dove vengono propagate comunque le varie news. I social, in realtà, sono una grande bolla, ma una bolla pazzesca. ma proprio la testata, che può avere più like in assoluto, dai social non farà neanche il 3 o il 4% delle visite. Proprio assolutamente... Anche se una notizia diventa virale e la condividono tutti, non c'è storia. Nel senso, i social sono proprio una bolla dove la gente magari condivide, ma lo fa per condividere il titolo e l'immagine, il concetto, ma poi l'approfondimento, difficile che arrivi dai social. Infatti, ad esempio, il nostro sito fa 1,6 milioni di utenti mese, cioè aumentato un po' col Covid, prima erano un po' di meno, non troppi di meno, e dai social arrivano il 4% delle visite. Quindi, quando le pagine hanno 200.000 like, badate, dopo l'apporto che si ha a livello di notizia tramite quei like, è blando, è molto blando. Ok, io ho sempre pensato che fosse più una questione di reputazione nel vedere il numero, più che altro, però magari non lo so, perché effettivamente non sono così esperto dell'ambito. Il numero fa tanto, sì. Psicologia. Sì, e tu mi dici in sostanza che il lavoro di una testata si basa sostanzialmente sul SEO. Cioè, è il SEO di Google che conta più di tutti, piuttosto che... Mamma mia, sì. E ovviamente non sono algoritmi magici, perché la storia di mettere la parola chiave, di fare, di ripetere tot volte un concetto, perché così magari aumenta la densità delle parole chiave, tutte queste piccole... Posso dire parolacce? Sì, sì, sì. Sono cazzate, sono cazzate enormi, perché Google oramai, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti dell'engine, panda, penguin, eccetera, ha affinato molto l'intelligenza artificiale e legge le news come le leggerebbe un utente. Quindi se legge otto volte, tipo, che ne so, PUBG, come sbloccare arma X, per sbloccare arma X i PUBG devi, bla bla bla, PUBG ha aggiunto una nuova arma nello stesso articolo, lo ripeti dieci volte, Google stesso si rende conto che stia scrivendo per la macchina e non per l'utente. Quindi c'è un lavoro di scrittura per l'utente. Cioè, quando leggi un nostro articolo non leggi mai un qualcosa che sembra scritto per un bot, ma è scritto per i lettori, perché ci fa piacere che i lettori non vengano trattati come stupidi, perché sembra, cioè, sembra una cavolata, ma non è. Ma ci interessa soprattutto che, non soprattutto ci interessa anche che Google capisca la qualità anche anche capendo che il contenuto che c'è scritto è per gli utenti. Sì, comunque le entrate arrivano da lì. Quando Google capisce che la notizia è di qualità ti porta in alto. Ok. Sì, ti porta in alto e poi effettivamente gira un pochettino di più tra gli utenti che la riceveranno più in alto quando fanno una ricerca, sostanzialmente. Se ho ben capito. Che effettivamente io non ne so moltissimo, so solo qualche concetto di base che quando ne sai poco magari poi scopri che sono sbagliati questi concetti. Sì, perché è pieno di guru. È pieno di stupidi guru in giro che iniziano a dire i segreti della SEO, come ti faccio arrivare in prima posizione. Vabbè, se ti chiami che ne so Ortofrutta Giulianova e scrivo su Google Ortofrutta Giulianova è ovvio che arrivi primo. È l'unico keyword che esiste. Cioè, sono barbatrucchi che... Vabbè, sì. Lasciano il tempo che trovano. Va bene. Questo effettivamente mi porta a chiederti qual è stata la difficoltà di iniziare. Nel senso, non so se partivate da zero. Questo in realtà non lo so, infatti fa parte della domanda. Però, qual è stato il processo di creare una realtà che poi si è affermata? Insomma, quali sono state le difficoltà? Ma non da solo dal punto di vista tecnico, anche umano, voglio dire. Perché se vuoi lanciare aneddoti vai pure, perché anzi, sono i benvenuti. Allora, la difficoltà all'inizio è avere una base di credibilità. Ovvero, fuori c'è una giungla. Nel senso, quando ho iniziato io ho letto, vado a memoria, mi pare, 360 curriculum. Però non ho preso i migliori che si sono proposti, ma ho cercato di prendere i migliori tra quelli senza esperienza. Perché così potevamo maturare tutti insieme e fare un processo graduale. il tutto affiancato ai tempi dal capoledattore Sebastiano, che al momento è un po' meno attivo, però c'è sempre. Abbiamo preso quelle due o tre penne un po' più navigate e poi il resto, vabbè, io a dirigere un po' di esperienza ce l'ho perché comunque sono in editoria da 12 anni, sono stato con Spazio Rock, ho delle pubblicazioni su Rock Hard, Metal Hammer, quindi qualcosina diciamo che il mondo del giornalismo lo conosco, però ho cercato di prendere tutte persone nuove ed è stato un dramma perché devi fare una formazione magari a 20 persone che non hanno mai scritto un articolo, anche se però in base ai curriculum ho visto quanto erano capaci, quanto erano bravi nel gioco e quanto erano bravi a raccontare una storia. L'importante è capire poi come quella storia può essere tramutata in parole fruibili a tutti. diciamo che il più grande scoglio che abbiamo incontrato è stato farci conoscere e abbiamo ancora tanto da fare perché ovviamente ci si fa conoscere sui social perché dal web arrivano, leggono una notizia e ti prendono come fonte autorevole però non fidelizzi, non è che dopo c'è un ragazzetto che legge la tua news quattro volte e va in giro player.it è la cosa più figa del mondo. Non funziona così purtroppo. con i social invece si empatizza molto e lì comunque puoi fare strategie di brand puoi potenziare il marchio eccetera. Lo scoglio più grande è quello farsi conoscere sui social soprattutto perché il nostro target è dai 25-35 quindi non è un target giovanissimo ma è un giovane adulto e i giovani adulti sono molto resti a diciamo a entrare nelle grazie cioè a farli entrare nelle grazie è molto difficile sono più difficili da convincere diciamo non si fidano di te soprattutto perché vengono da un passato dove c'erano i forum e quanto mi mancano i forum erano la cosa più bella del mondo preferisco mille volte un forum o un social ma ma di tanto poi magari ne parliamo ci sperano in un ritorno dei forum nel futuro ma ci sperano tantissimo diciamo che esistono ancora tipo io che faccio il fonico c'è il forum Gearslats che è quello famosissimo eccetera si è quello ancora esiste ed è frequentatissimo perché vabbè i fonici vabbè comunque non ti facciamo poi ne parliamo in privato i fonici molto interessante un altro scoglio difficile questo riguarda la cultura italiana riguarda la SEO ovvero l'aiutarsi a vicenda tra siti noi saremmo aperti ad aiutarci ad aiutarci a vicenda con altri siti il problema è che c'è un'ignoranza di fondo e si pensa che succede anche su youtube con le collab succede ovunque proprio nella cultura italiana è insito nella cultura che è difficile collaborare ovvero come si cresce per google proprio a livello di algoritmi questa è proprio roba tecnica si cresce essendo citati ovvero io faccio uscire una news su persona 5 ad esempio l'ho saputa avere prima io poi la rilanciano gli altri siti e non ti citano quindi per google non sei tu la fonte quindi non sei autorevole invece se tutti si citassero a vicenda sarebbe più meritocratico tutti i siti avrebbero una possibilità nel loro campo di appartenenza o per alcuni argomenti quindi magari google si accorgerebbe che un sito è molto ferrato su un gioco ad esempio e lo farebbe uscire prima perché c'è più autorevolezza però gli altri siti tenendo pensando oddio ma poi dopo escono dal sito non ci leggono più non ti linkano e fanno un danno a loro ai loro utenti e al sito che ha trovato la fonte mentre noi ad esempio le fonti le citiamo sempre cioè a fine articolo c'è un pezzettino con sito source e c'è il link perché è giusto tributare da dove arriva quella news eccetera cioè qual è la bibliografia è importante in Italia non si fa no non si fa né sui siti ed è gravissimo perché google fa molta difficoltà a capire chi è autorevole e chi no perché non c'è il feedback perché sembrano tutti i siti fatti on made poi è quello il problema se non vengono citati che si fa e la stessa cosa succede su youtube quando in realtà su youtube se persone affini che fanno robe affine se aiutassero facendovi video insieme mettendosi il like così per apparire sui correlati eccetera si creerebbe un mini network dove le persone rimbalzano tra creator e creator non si stufano perché non vedono sempre lo stesso creator sarebbe tutto più bello invece no per la gente chiusa io il mio orticello non mi interessa coltivare quello degli altri quando in realtà non vai a coltivare neanche il tuo poi allora sarebbe un discorso lungo io l'ho vissuta in altri ambiti questa cosa qui quello che dici maggiore la musica aspetta che sei staccato un altro mamma mia allora quello che dici è in realtà molto vero nella musica ma anche in altri anche in altri vabbè è una questione di maturità io onestamente come dico sempre soprattutto nel mondo dei social è relativamente recente e essere abituati a fare rete è una cosa che non si impara dall'oggi al domani ora assolutamente no la mia esperienza è ovviamente limitata per carità di dio quindi è solo una mia opinione che vale quello che vale però penso che qualcuno della nuova generazione questa cosa un pochettino la stia la stia imparando sì qualcuno sì poi lo possiamo vedere su youtube ci sono dei casi virtuosi come la divulgazione scientifica dove c'è Adrian Bressanini e compagnia bella che fanno live vicendevoli dove si citano a vicenda c'è sempre un io non ad esempio io non ne so di chimica faccio l'astrofisico però potete seguire Bressanini che vi può spiegare la cosa cioè c'è questo scambio di informazioni che vabbè che nella scienza è importantissimo perché da solito non si va a nessuna parte ma anche perché negli stem le fonti sono importantissime altrimenti non puoi non puoi neanche iniziarlo il metodo scientifico non puoi fare peer review non puoi fare nulla non puoi fare niente nel gaming succede con i ragazzetti su twitch che magari si fanno le ospitate sì funziona con i ragazzetti funziona tantissimo però quelli più adulti quelli dell'età nostra comunque hanno queste un po' invidia sociale intrinseca e non vogliono condividere a me mi manda in bestia non si dice a me mi scusate ma mi manda in bestia totalmente perché sarebbe tanto bello perché uno dovrebbe vedere dieci miei video e poi si stufa quando in realtà ne può vedere due vede due di un altro poi torna da me poi magari va non lo so faccio una recensione va a sentire anche le altre campane e poi dopo discute io qui ho trovato questa non lo so ho trovato questo spunto mi è piaciuto qui ho trovato quest'altro cioè si crea comunque un rapporto umano tra lettori creator giornalisti che è molto interessante perché stimola comunque la visione intellettuale anche di media frivoli come videogiochi frivoli tra parentesi perché ci sono giochi profondissimi però è comunque intrattenimento sì allora quello è vero quello è vero e quello che posso dire è che effettivamente guardare il proprio orticello è una cosa che un po' nel cervello abbiamo tutti ma a seconda della generazione questa cosa cambia quello che ho notato io è che quelli della nostra generazione hanno delle cose ma gli mancano altre e quelli della generazione più più recente hanno altre cose per esempio come hai detto tu è molto difficile far capire il concetto di rete di community a uno che ha superato i 30 anni che non è abituato a viverla in maniera così profonda che tutti ne beneficiano facciamo questa rete di cose spesso non succede e i ragazzini invece questo lo capiscono un pochettino di più perché sono cresciuti con YouTube perché noi quando avevamo scusami se ti interrompo quando avevamo 16 anni 15 anni noi avevamo i forum e nei forum facevamo community perché c'era il nostro forum di riferimento prendevamo i beige il sottotitolo ci sentivamo parte di una community ma di una community a cerchi chiuso era era l'equivalente informatico del il tuo posto sulle balaustre che è sempre quello del tuo gruppetto degli amici esci al poveriggio quando avevamo 14 anni noi che internet ancora non c'era ti ritrovavi con gli amici ti piazzavi in una certa panchina e tra i ragazzi della zona si sapeva che quella era la panchina del gruppo nostro dove passicavi testa meledetto eh vabbè oddio in realtà io ero un po' nomade cioè giravamo un sacco non ero uno di quelli super stabili che tipo piccola gang non l'ho mai fatto però sapevo dell'esistenza di queste cose cioè passavi da quelle parti e c'era quel gruppetto che stava là passavi di là quella panchina c'era quell'altro gruppetto eccetera avevamo il mercato coperto i metallari di Giulianova avevano il mercato coperto ok che era una cosa però sì lì si faceva community perché magari arrivava il tipo nuovo che voleva fare amicizia c'erano dei processi un po' tribali però noi abbiamo quel concetto lì di community ma i ragazzini di oggi cresciuti nativi digitali hanno un concetto di community di appartenenza diverso sì esattamente cioè loro vanno sempre a squadre però in compenso in compenso quelli che sono nati dopo una certa data ho notato che hanno una visione molto più romantica del 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 mondo intorno a loro e ho notato che un sacco di ragazzini che pensa l'assurdità vengono a chiedere a me dei consigli su come iniziare un canale youtube che sono una realtà molto piccola però ho notato nell'ultimo periodo che rispondendo ai ragazzini che ogni tanto mi scrivono una determinata cosa li metti di fronte a una realtà che è un pochettino meno idilliaca tipo guarda vuoi aprire un canale tutte queste cose bene sei disposto a passare due anni senza guadagnare assolutamente niente lavorando ore e ore ogni santo giorno spendere tutto quello che hai per una determinata cosa e poi forse vedere qualcosa rimetti di fronte a una cosa che è una questione dello sfasciarsi il culo che è un po' cambiata nel corso del tempo effettivamente ma anche l'editoria ha lo stesso problema di youtube nel senso i primi due anni è tutto in perdita quindi devi avere uno statura forte perché o fai come in molti siti non li cito però ci sono molti siti anche grandi che magari stipendiano due o tre due o tre due o tre persone il direttore e il resto sono tutti collaboratori che cercano fama o chiavi di gioco quindi sono molti siti ok non voglio cause legali ma si sa e io non ho detto niente il segreto di Pulcinella esatto questa cosa la sapevo pure io ma non ho detto niente l'ho lasciato che lo dicessi dopo cioè tipo noi non paghiamo tantissimi redattori vengono pagati a parola però e sono tutti quanti in nel senso lavorano tutti quanti a ritenuto da conto collaborazione occasionale però è tutto legale nel senso stiamo nella legalità non andiamo mai a cranciare le persone non le sfruttiamo mai i nostri redattori nel senso quando hai tempo fallo cioè abbiamo sempre questo concetto magari alcuni dicono raga muovetevi a fare sta roba per favore grazie è un po' tra amici colleghi ci si viene incontro però non c'è mai come si può dire l'imposizione proprio finale invece molti altri siti si fanno forza di avere ragazzi di 18-19 anni che hanno il sogno di gloria di diventare il giornalista videoludico che poi lascia il tempo che trova in un certo senso se non hai la tua rete e stanno lì a lavorare gratis quindi è ovvio che molti siti rientrano possono investire se ne possono andare tranquillamente gamescom e3 in giro per l'Europa c'è da provare un gioco in Germania chiapa e vanno cioè si magari molte volte paga il publisher però molte volte deve sborsare l'editore ed è facile quando hai zero costi alla parte che quello che mi hai detto è pari pari quello che ho sentito da alcuni del giornalismo anche tradizionale anche testate grosse grosse italiane di giornalismo vero posso raccontare la mia esperienza con la musica allora io ho fotografato circa 1200 concerti forse 1300 dovrei contare su Lightroom le cartelle che ho cioè di sicuro 1300 concerti però alcune band le ho fotografate tipo 8 volte tipo i Ghost le ho fotografate 8 volte i testano 7 volte però più o meno ho fatto 1200 palchi ho fotografato i primi anni dal 2000 2008 2009 2010 il cartaceo ancora non crollava perché il cartaceo aveva ancora gli abbonati quindi avevi magari non so ai tempi Metal Maniac era quello con cui collaboravo più spesso aveva che ne so 40-50 mila abbonati che pagano 5 euro a copia quindi hai 250 mila euro di entrate solo da quello senza contare gli sponsor e le pubblicità e potevi permetterti di pagare il fotografo che magari tipo io facevo anche il live report di due pagine quindi due facciate 4 foto poi magari alcuni avevano anche il link per scaricare tutte le altre foto prima dei social più tutto il pezzo magari ti pagavano 150-200 euro più rimborso spese quindi facevi 4 concerti che ne so i primi tempi ti alzavi 1000 euro ed era lavoro giornalistico lavoravi poco e guadagnavi poi era giusto perché tu mettevi la tua arte mettevi il tuo report meritocraticamente stai lì perché le tue foto hanno una qualità magari superiore a quello di chi si è comprato la reflex a 10 minuti e comunque davo un prodotto qualitativamente molto alto ma non dico che i miei erano altissimi perché ero comunque giovane quindi chissà che se vado a rileggere certi articoli mi sparo però venivano pagati al loro modo bei soldini che è successo poi dopo l'editoria è crollata l'editoria cartacea e gli stessi giornali sono dovuti trovati a pagarti solo con i proventi delle pubblicità e dal 2012 al 2016 ci usciva quasi solamente il rimborso spese tipo ho lavorato per anni con Spazio Rock che è molto 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 grande come è testata cioè pure su facebook hanno veramente un pubblico enorme le mie gallerie dei concerti venivano viste dalle 10 alle 15 mila volte però gli introiti che provenivano da quelle 15 mila visite alla gallerie ci bastavano per rimborso spese e benzina cioè lavoravo a gratis poi dopo ovviamente uno si reinventa perché nessuno lavora gratis quindi cerchi di vendere all'agenzia stampa alle band stesse le foto molte volte ci riuscivi perché l'alternativa era prendere foto da instagram della gente poi dopo ovviamente c'è stato un tracollo anche lì e che succede qual è il tracollo? che la gente in prima fila ora ha gli iphone gli iphone x riesce a fare foto buone le prendono da instagram gratis boom finito non serve più il fotografo ecco l'informazione è anche così adesso nell'online se non hai un bacino di visite nel gaming ad esempio di 1,2 milioni 1,5 milioni 2 milioni non riesci a fare contratti con le concessionarie che pagano abbastanza il cpm il costo per mille ovviamente tu non riesci se non hai quel bacino di visite non riesci a avere degli introiti che ti permettono di andare a pari cioè a pari perché a guadagnarci guadagna every eye multiplayer spazio games più o meno questi siti qui perché hanno all'ordine dei 4-7 milioni di utenti possono fare contratti più vantaggiosi con le concessionarie che ne so playstation magari può pagare uno spazio sfondo dove mette playstation 5 in arrivo ti dice totito totto al mese e riescono a pagare i redattori eccetera giustamente sale il valore dello spazio però per adesso noi con i contratti che abbiamo in essere riusciamo a coprire pari le spese di tutti i redattori che va bene andiamo a zero però l'editore i primi due anni ha investito quindi dobbiamo puntare a raddoppiare a triplicare le visite e col concetto di slow news è un percorso lungo però probabilmente avete un pochettino più di base nel senso che il problema è anche che le visite su google le fai tanto col clickbait e noi clickbait ci fa schifo ci fa schifo totalmente lo posso capire purtroppo quello è ma bisognerebbe anche vedere che cosa si intende per clickbait effettivamente perché ho sentito ogni genere di definizione posso citare una cosa che ho letto vado sicuro nei guai tipo è uscito un articolo che vabbè il sito si sa aspetta che mamma mia un attimo che mi staccano le cuffie vedrei la registrazione video e secondo me qualcuno ci farà i pup col fatto che mi cascano le cuffie allora c'è la scritta è un giornalista che non cito poi magari cercatevelo da soli chi ci ascolterà che io simo tantissimo lo seguivo da prima di player lo seguivo tutti i giorni che però ho fatto un titolo che è nintendo switch quando i direct te li deve anticipare una che favorisce la masturbazione in cam dove nell'articolo non si fa altro che dare scusate il termine della puttana a una gang girl tutto il tempo è un articolo scritto da un giornalista che stimo che sembra uscito da da libero o da il giornale scritto da qualche sottopagato a 5 euro non si fa giornalismo così però quell'articolo avrà fatto due trecentomila click senza problemi mi è apparso per due giorni di fila su google eh sì ho capito che cosa intendi questo per attirare click poi dipende ecco quella concessione che io ho di clickbait è che va bene attirare l'utente perché lo fanno anche i negozi con le insegne luminose messe fuori lo devi fare eticamente però esatto e lo devi fare offrendo un servizio che la gente considera positivo da moltissimi punti di vista perché attirare click poi vabbè puoi farlo a mitraglia però poi la reputazione penso che sul lungo termine conti anche però la gente ha memoria corta ci sono dei politici di entrambe le fazioni sinistra e destra che le hanno dette di gotta e di crude per 3-4 anni però l'italiano in media ha memoria corta perché è anche l'italiano questa è una cosa della storia dell'uomo ma adesso questo social è anche più complesso perché tu sei martellato hai migliaia di informazioni che ti arrivano ogni giorno comunque immagina la cache del cervello per dire un termine nerd un po' si satura sì è vero comunque io penso che sia difficile trovare l'equilibrio tra queste cose la necessità di attirare utenza e anche la volontà di mantenere un'etica del giornalismo dovendo far quadrare i conti giustamente perché mi hai detto che giustamente io me l'aspettavo che mi dicessi una cosa del genere nel senso che i primi due anni tu cerchi di andarci a pari e fai l'investimento perché all'inizio non guadagna è così per tantissime imprese effettivamente non ci guadagnerai mai tantissimo ci guadagnerai il giusto nel senso che l'editore rientra con la spesa e ha quel minimo income per dire ok che bello ma lo fai perché ti piace innanzitutto lo fai per fare un prodotto bello è il problema di tutte le attività economiche che hanno di base un qualcosa che verte un po' sulla passione tipo la musica i videogiochi cose del genere siccome sanno che ci sono delle persone che comunque faranno qualcosa il prezzo di queste cose si abbassa è una banale legge di mercato e comunque se volevamo diventare ricchi non avremmo scelto di fare questo cioè voglio dire sempre con l'intrattenimento in sé su youtube guadagni quando cioè guadagni sempre per vitraverse con le ospitate guadagni col placement e ora per fortuna l'Unione Europea ci ha messo una toppa lo devi di quando fai il placement ringraziamo il cielo perché certe volte io lo vedevo magari con i miei cuginetti che si guardavano i youtuber quelli più famosi del gaming dai non facciamo nomi però tra 4 anni fa mi ricordo che li guardavo con gli occhi di una persona che più o meno ci sta nel marketing e vedevo i product placement palesi 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 però per i ragazzetti era wow che figata però quello è pubblicità vabbè è normale negli Stati Uniti questa cosa esiste da 30 anni voglio dire però ecco diciamo che per fortuna l'Unione Europea ha iniziato a regolamentare questa cosa non mi guardi in cam ho dei capelli che non scusate non ti preoccupare è una di quelle cose che alla fine si raggiunge un minimo come un denominatore quando vengono fuori i problemi e dopo un po' tende a venire fuori una media soluzione al riguardo comunque quello che volevo chiederti anche era mi hai già detto delle fonti delle news giustamente che sono queste testate americane che fungono da agenzie stampa anche se non lo sono praticamente è quella fase forse del giornalismo videoludico in cui si è capito che le agenzie di stampa servono ma ancora non ci sono non c'è anche un sindacato quindi esatto va bene però è ancora troppo presto per avere l'agenzia e il sindacato perciò si usano quelli con la reputazione un pochettino più per reputazione vabbè quelli che sono più grossi sul mercato praticamente tipo Rock Paper Shotgun che c'è dall'ottocento quando era una rivista che parlava di giochi cartacei esatto scacchi cose esatto esatto come vedi cambiare questa cosa ancora nel senso che hai fatto un'evoluzione di questa cosa dal cartaceo iniziale facendomi anche l'esempio dell'editoria musicale Rocchettone e Metallona che io conosco effettivamente e poi dall'inizio dell'online poi il full online secondo te dove si sta andando a parare con questo perché ho sentito chi è contento del fatto eh no lo so è perché ho sentito sia chi dice è un casino non si non si paga più niente e sia chi dice vabbè ma il mercato sta espandendo tantissimo e quindi i soldi stanno comunque aumentando ho sentito entrambe le cose praticamente il vero motore dell'economia è da sempre la pubblicità perché fa spostare ovviamente prodotti e servizi fa girare soprattutto prodotti attualmente chi chi mette pubblicità non capisce la potenzialità appieno perché è una pubblicità online fatta bene non quella spammosa clicca qui c'è una donna che ti aspetta cioè la pubblicità fatta bene soprattutto nei siti eccetera un bel banner però fatto bene con sopra un'offerta veritiera quella ti converte e ti converte bene ad un prezzo irrisorio a 20 centesimi a click che roba è dovremmo arrivare a un punto dove gli editori stessi chiedono a google che gestisce comunque double click che google ads è la piattaforma più grande del mondo di advertisement che obblighi le persone a pagare un po' di più per la pubblicità così possono esserci maggiori introiti e può esserci maggiore qualità perché se mi entra il triplo io poi investo ho senza investire perché investo in formazione in qualità magari prendo delle persone per aiutare i redattori e ovviamente poi dopo la qualità degli articoli e anche il posizionamento degli ads perché la qualità migliora è tutto un circolo vizioso e aiuta la crescita però adesso stiamo con la gallina delle uova d'oro per i publisher cioè che ne so devo fare advertisement del mio gioco se faccio un banner carino mi costa niente 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 però dopo se la gente lo clicca lo compra ho il massimo della resa ai tempi se dovevo mettere la pubblicità su un cartellone dove che ne so un cartellone a Giulianova dovevo mettere la pubblicità del kebabaro ok grande sulla via di passaggio ma quello lo paghi 7000 euro lo paghi 10.000 euro al mese ne metti 4 paghi 40.000 euro al mese di pubblicità per un ritorno di un bel ritorno però se ti sposto a pagare 40.000 euro di pubblicità magari non il kebabaro ok però che ne so fai quando sono andato alla Gamescom tutta la regione della Germania dove c'è Colonia era tappezzata di pubblicità Doom Eternal il playstation cioè sotto sopra i pullman McDonald ovunque la pubblicità cartacea l'han pagata tot però sicuramente l'han pagata un centesimo della pubblicità online e non è giusto intanto che parlo mi riattacco il mio esatto va bene e allora questo è un problema che avevo che avevo già sentito credo che alla fine la legge del mercato sia quella che sta portando i prezzi in questa direzione il monopolio di fatto di Google probabilmente non aiuta no non aiuta affatto esatto viva la concorrenza sono andato in questi campi e allora ora cambiando un secondo argomento mi hai raccontato un pochettino della vita della testata quello che fate eccetera ora mi sono scordato una cosa di dirti è anche importante ad aiutare player comunque c'è stato una fusione allora Mondadori aveva abbandonato un sito che era games.it che era uno dei principali siti di videogiochi in Italia cioè c'era da mi pare che era andato negli stessi giorni in cui era andato multiplayer online quindi era bello ai su articoli cioè io ho importato su player.it 30.000 articoli di games perché abbiamo acquistato il sito che era all'abbandono ovviamente l'utenza era totalmente persa perché era fermo da 6 mesi se c'è un banner grosso sul sito dove si è scritto il sito non verrà aggiornato l'utente dice è chiuso quindi quell'utenza ancora non l'abbiamo intercettata però a livello di articoli sì perché abbiamo fatto un lavoro di riammodernamento degli articoli che erano su games e quegli articoli poi ovviamente hanno aumentato la portata di player del 30% i tempi poi dopo è salita è tanto 30% ci dispiace ci dispiace per i social perché i social poi dopo adesso sono di smart word perché hanno deciso mondadori ha detto ok abbiamo smart word gli lasciamo comunque youtube il twitter il facebook quelli di games e niente quindi c'è la smart word però a livello di sito l'abbiamo acquistato noi quindi games.it ora è la stessa cosa di player quello ha dato una bella mano ha dato una mano anche che sono riuscito a portare dentro Simone Segatori che era uno dei responsabili di games.it che è una delle migliori penne d'Italia per me proprio fuori schema è bravissimo vabbè ha un'esperienza che c'è dal 2008 che scrive quindi ha invitato molto anche lui guarda allora mi hai praticamente introdotto un pochettino la domanda che volevo farti ovvero se uno volesse dire ok mi piacerebbe un sacco scrivere qualcosa per una rivista perché non me ne va di aprire il classico bloggettino o pagina facebook per cavoli miei ce ne sono a carrettate eccetera che tipo di preparazione dovrebbe avere com'è il modo giusto di porsi quando dovrebbe contattare una testata per proporsi per offrire il suo lavoro insomma diciamo così un giorno porta le birre vieni da me io faccio gli rosticini ti faccio leggere no non posso c'è il gdpr non posso magari te li censuro ti faccio leggere qualche curriculum che ci è arrivato ok aspetta che si è bloccata la camera ok ripartita allora innanzitutto scrivere un buon curriculum ci sembra una cavolata ma i curriculum vengono letti allora scrivere un buon curriculum seconda cosa sapersi farsi cioè si va a scrivere di videogiochi scrivere le cose troppo formali si ma no nel senso cioè dare del subito del voi del lei magari no cioè siamo tra ragazzi comunque quindi togliamo un po' la barriera del magari con l'editore cioè con il nostro capo lo do anch'io del voi del lei però ma tra di noi easy farsi notare magari che ne so qualcuno vuole scrivere se la passione è scrivere magari aprirsi un profilo instagram dove dentro si fanno delle story dove si parla di videogiochi farsi conoscere essere sociali così si fa capire subito che si è già nel meccanismo di fare un po' di personal branding perché è importante i giornalisti devono fare personal branding è quello che penso da anni sì se nei tuoi articoli non ci colleghi la tua faccia quegli articoli magari sono bellissimi piaceranno tantissimo ma non ti ricollegano è importante saper fare personal branding allora innanzitutto scrivere io tipo Daniele dovesse entrare su un sito ammetti che non avessi player e dovesse entrare su un altro sito dovrei fare colpo quindi per prima cosa preparare un articolo che sia un qualcosa di estremamente fuori dalle righe fuori dagli schemi perché ti devo stupire perché l'articolo ordinario della news me la sa scrivere anche mia madre se faccio sei mesi di training ce la fa chiunque a scrivere qualcosa di interessante ci riescono in pochi quindi proporsi con già un articolo pronto impaginato in pdf così si fa bella figura sicuro portare il proprio curriculum e spiegare subito quali sono le aree di competenza perché se nelle mail di apertura leggo ho la switch e ho giocato 150 giochi io so già che cavoli sto qui si è posto in questo modo e posso già capire che è molto ferrato sulla switch e io magari sulla nintendo sono abbastanza scoperto fammi leggere un po' cosa da propormi questo magari mi propone un articolo le 15 cose che non sapevi dei brand mai pubblicizzati di nintendo fai un articolo così a cazzo mi è venuto in mente magari mi hai stupito perché è una cosa che non leggi però non trovi spesso un articolo simile magari te lo trovi davanti è bello e dici ah cavoli mi hai stupito e lì è una buona possibilità che poi dopo magari ti fai un colloquio e entri a far parte di una relazione a chi mi sta ascoltando che vuole fare un processo simile attenti che molti siti possono promettere mari e monti ma poi il budget è stretto pure per i grossi questo deve essere chiaro a tutti lo si fa molto per passione molto è per arrotondare magari se uno ha un lavoro che prende 6-7 ore al giorno e si hanno quelle due ore libere si possono arrotondare un po' di soldi fare qualcosa che piace ma come lavoro principale difficile pure per me che sono vice direttore figurati ok va bene alla fine è più o meno la realtà che mi aspettavo disgraziatamente sarebbe sarebbe bello puoi ripetere un attimo sarebbe bello effettivamente se fosse diverso da così ma è una realtà che purtroppo anche se in altri ambiti un pochettino un pochettino conosco per quanto riguarda le cose non strettamente legate all'ambito del giornalismo videoludico come hai visto cambiare col passare del tempo gli uffici stampa ecco cioè il rapporto dei publisher direttamente con vabbè i mezzi di informazione e il pubblico perché questo io ho visto un cambiamento radicale negli ultimi due anni per esempio è complicato allora sì ti ho fatto una domanda devastante ho ben chiaro cosa dire ma è complicato allora gli uffici stampa adesso i pr che sono dentro gli uffici stampa sono sessionati non per colpa loro ma dei piani alti ai risultati ai numeretti si leggono poche recensioni cioè una volta si leggevano perché è arrivato youtube ed è più bello vederle col video tutto qui è una questione di comodità siamo passati da magari 30.000 visite a una recensione a 5-6.000 però c'è sempre l'autorevolezza della testata perché comunque la gente gli utenti vanno sulla testata entrano vedono il voto escono però sanno quel sito cosa le pensa di quel gioco al volo gli uffici stampa quindi i pr sono portati ad avere il massimo risultato su un determinato gioco quindi fanno pressioni non fanno realmente pressioni tipo metti il voto però ci tengono molto sono molto aperti al dialogo però magari se gli dai un voto basso non te lo possono vietare però magari il prossimo gioco che esce non te lo mandano in anticipo quindi il rapporto è meno è un po' una merda in realtà perché in realtà pur i siti grandi grandi hanno avuto dei mini ban da uffici stampa da pr perché magari sono stati violati embargo è successo anche a me non l'ho fatto apposta cioè molti lo fanno con malizia e a me è successo per un incidente e quando succede poi dopo ti mettono una croce per un bel periodo non gli piace fare niente quindi con gli uffici stampa è una guerra aperta perché ti devi tenere buoni pr devi parlare dei loro prodotti così possono portare dei risultati devi comunicare il sentiment che c'è dietro un gioco è molto importante tipo il nostro PR Simone è molto bravo a comunicare questa cosa però poi dopo in fase di recensione sono cioè alcuni hanno la loro alcuni capiscono se stronchi un gioco alcuni lo capiscono altri invece non se ne capacitano e danno di matto ok nel senso che non era così non era così una volta che proprio ti chiamano e tipo che cazzo hai fatto ti chiamano e dicono che cazzo hai fatto ma hai rovinato perché molti ci rimettono il posto di lavoro perché vuol dire che non sono riusciti ad allisciarsi le riviste per fargli sembrare il prodotto che poi non è una cosa brutta nel senso è come il venditore che prova a venderti il folletto deve riuscire a venderti il gioco il meglio delle sue possibilità quindi se c'è un bug e lo capiscono devono comunicarti e dirti guarda che giocando troverai Samagagna stacci attento se pone la recensione evitalo perché lo fixeranno in due tre giorni tipo è successo con Red Dead Redemption dove hanno comunicato che la versione PC aveva dei problemi a livello di processore quindi a me si è puntato diverse volte però mi è stato comunicato e io il 10 l'ho lasciato comunque perché ero sicuro che la settimana dopo quando ci avrei rigiocato quei bug non li avrei visti più e non c'erano più e lì capivo che era una questione di crunch di alcuni develo perché non sono arrivati a fare quei fix e li capisco perché sono umani non è che sono robo è buono l'importante è che c'è la comunicazione lì il PR è stato bravo a comunicare la cosa e vabbè c'è anche la reputazione dietro però di chi lo sta producendo il gioco perché te l'avesse detto o qualcun altro magari avessi detto mmm ma non so se la faccio questa cosa poi come fai quando i PR ti provano a vendere dei prodotti magari indie che io supporto tantissimo l'indie perché è fatto da ragazzi come noi però certe volte arriva dell'immondizia pura mamma mia che ti spiace che devi fare non lo recensisci punto perché trastroncarlo che devi fare sono tanto ragazzetti sul canale mi è capitato in passato nel mio piccolissimo mi rendo conto io ancora non ho rapporti con PR se non due volte mi sarà capitato in tutto e uso i siti quelli che sostanzialmente tu metti il tuo account fai vedere che canale c'hai eccetera ci sta direttamente la gente che sono tutti gli uffici stampa tranquillo sono andando manate di chiavi a chi a chi decidono e a me arrivano chiavi a un certo punto ho superato una certa soglia ho cominciato a arrivarmi fiumane di chiavi perché io ne avevo chiesto a rotta di collo sapendo che me ne accettavano un 40 da 1 su 40 è successo anche noi che inizi perché prima di nelle riviste prima di di avere un rapporto con i PR usi questi siti agli inizi è stata una tragedia perché ci arrivano tanti di quei giochi io ho pagato cioè l'editore ha pagato degli articoli fuffa su giochi che non esistono errori errori da principianti sì ma per giochi mamma mia perché ne chiedevamo a Iosa eh sì sì infatti adesso sto cercando di limitarmi e mi è capitato però onestamente vabbè che lì non hai un obbligo super forte e lì si aspettano che la gente che prendi a caso perché dai andiamo è a caso che ha dei canali o cose del genere e alcuni non li portino quindi immagino che si facciano una percentuale di chiavi consegnate che poi ti ritornano come contenuti da parte di creator e d'accordo qualcuno lo ha fatto quindi il 10% vengono aperte oltre i giochi indie quelli che fanno clamore tipo Train Miami quelle robe lì Celeste o quei giochi grossi la percentuale di apertura ne parlavo con un developer in ASV durante la Gamescom la percentuale di apertura è del 10% quindi loro mandano che ne so mille chi il 10% vengono riscattate e la metà gioca il gioco quindi molte persone fanno la recensione senza giocarlo eh ma ok è tutto schifo sta cosa fa schifo io lo dico se mi sentono i miei colleghi fa schifo sta cosa recensione un gioco senza giocarlo fa schifo eh vabbè quello certo che fa schifo lo fanno in tanti io lo provo io lo provo per poco faccio spessissimo solo un video proviamolo ma mica faccio la recensione proviamolo ci sta che molti fanno la recensione e tu la leggi hai giocato tutto il gioco cioè succede che esce una recensione con embargo tu sai che nessuno può averlo giocato fino a quel giorno vai a leggere la recensione noti delle robe che non stanno né in cielo né in terra perché vai a leggere i tuoi competitor dopo che hai fatto uscire la tua per capire un po' come cosa ne pensano gli altri non per copiare e leggi delle robe che nel gioco non c'è non ci sono poi vengono modificate e pace però ci stanno non lette parecchie un po' di tempo fa capitò la linkò Sabaku questa cosa di uno che aveva recensito il gioco dicendo che in questo gioco non c'era una determinata cosa e invece invece c'era scoprendo che aveva giocato il gioco in modalità quella molto facile nel senso perché era quella modalità in cui quella determinata caratteristica in effetti non c'era nel nel gioco l'ho visto anche con Doom Eternal con dei voti citati in giro dove si parlava del voto anche sul death cioè sulla possibilità di deathmatch non c'è il deathmatch su Doom Eternal però in una recensione c'era quella recensione è stata pure spammata in giro da da fonti autorevoli e io quando ho letto quella cosa ho detto ok sto qui non l'ha giocato il gioco perché non c'era il deathmatch non puoi aver recensito il deathmatch non c'è non l'hanno messo tutto questo comunque mi sta facendo sentire meno in colpa per la quantità di chiavi che devo ancora portare cioè di gioco che ho riscattato ma devo ancora portare sul canale sono rimasto indietro perché me ne sono arrivate troppo del periodo però ammetto che qualcuno non l'ho portato per il discorso che facevi tu nel senso no madonna mia ma che cos'è questa cosa ma perché esiste questo gioco e alla fine l'ho lasciato proprio perdere va bene guarda io un gioco solo mi sono rifiutato di recensire uno solo e lo dico qui in diretta mondiale se ci ascoltano pure gli alieni allora io sono un fag non un fan di Warhammer 40.000 ma proprio ok ci siamo perché lo sono anch'io cioè per farti vedere no vabbè c'è troppo casino nel cassetto però tipo il portadati con l'AID Inquisizione con la rosetta ok una roba in giro gioco di ruolo a Dark Aresi miniatura eccetera Warhammer sta qui e praticamente c'è Inquisitor Martyr che è una delle trame che mi interessano di più in assoluto nella storia dei videogiochi perché giochi comunque un inquisitore sbrodolo perché si parla sempre di Space Marine due palli di Space Marine fai sto gioco è una figata perché comunque è un diablo like un roguelike particolare ha una bella storia però la storia è in inglese è l'inglese è l'inglese arcaico di Warhammer quello che anche un laureato non capisce l'ho giocato ecco tu c'è quel gioco per PC vai a vedere le lingue c'è il polacco il cinese il portoghese la mamma loro e non c'è l'italiano la versione PS4 Xbox One ce l'ha ho parlato con degli amici developer e non c'è ragione al mondo per cui non c'è un motivo per cui non abbiano portato la localizzazione al PC e solo se lo sono dimenticati punto non c'è un'altra motivazione è un click e io mi sono rifiutato di recensire l'inglese è troppo complicato anche se l'inglese lo parlo e mi avete fatto così arrabbiare perché siete così svogliati che preferite non far contenti magari quelle 5-6 mila persone italiane che vorrebbero giocare il gioco perché? perché non c'avete voglia allora non vi meritate la recensione bomba che non vi ho dato uno perché perché c'è la localizzazione è da stronzi questo è brutto allora purtroppo qui posso capire allora intanto uno con i giochi di Warhammer succede sempre più spesso che sono delle cose a basso budget o delle cose magari fatte anche benino però è pieno di queste cose Inquisitor Martyr il budget ce l'aveva? ce l'aveva? e va bene ok d'accordo ma Inquisitor Martyr però io l'ho giocato ho tutta la serie sul canale ho sputato sangue per tradurre alla gente in simultanea le cose è stato un disastro mi fumava il cervello alla fine di ogni puntata veramente è stato tremendo va bene allora ascolta Daniele intanto ti ringrazio moltissimo per questo podcast io direi che mi sento anche abbastanza soddisfatto e però devo chiudere con una domanda che faccio sempre a tutti nel tuo caso però la devo riadattare un pochettino ovvero come vedi il tuo progetto quindi player.it nel futuro cioè qual è il punto d'arrivo non tanto nell'immediato nel senso i prossimi progetti tipo aggiornami su quello che farete in futuro no no mi servirebbe cioè mi piacerebbe capire un po' dove volete arrivare ok un pochettino per farlo dovrei fare uno spoiler grosso ok no no non mi fare uno spoiler grosso no vabbè non è niente di segreto tanto se si parla del futuro i nostri programmatori hanno tempo di di picchiarmi abbastanza per la mole di robe che devono fare allora ok nel futuro immagino player come una piattaforma come erano le piattaforme un tempo cioè come erano prima i tempi dei forum però integrata con le tecnologie moderne ci stiamo lavorando sopra noi abbiamo anche il find a player che è una piattaforma per trovare giocatori infatti bellissimo soprattutto per giochi di ruolo e board game dobbiamo potenziare la parte dell'online dei videogiochi spesso sarà bloccata la camera ok dobbiamo sistemare la parte online dei videogiochi perché sono tanti giochi però il futuro immaginiamo l'integrazione del find a player con il sito molto molto più grande solo il tempo lo vedrà lo immagino come un portale come erano i vecchi tempi però più fruibile delle nuove generazioni ok quindi sostanzialmente è una volete diventare un raduno di community vera e propria sostanzialmente ok ok bello quello che si è perso un po' manca manca tanto mi piace mi piace tutto questo spoiler in fondo mi hai detto una questione di principio effettivamente più che altro si è che in realtà sono delle tecnologie oltre il find a player che stiamo sviluppando che però insomma fin quando non ho una beta da far vedere è aria fritta però il mio cioè il mio obiettivo è quello va bene perfetto va bene Daniele di nuovo io ti ringrazio moltissimo e spero davvero che ci risentiremo per qualche altra cosa o magari una cosina che possiamo fare insieme non lo so quello che ti pare effettivamente e quindi niente ragazzi ovviamente tutti i link sono qui sotto ovviamente del sito di player.it ma tutti i vari social eccetera trovate tutto qui sotto in descrizione andate a seguire immediatamente tutto perché ve lo consiglio da quando ho aperto il canale praticamente soprattutto in questo caso e ovviamente dai iscrivetevi anche a questo canale se vi va e lasciate un like se questa puntata del pod Chris vi è piaciuta d'accordo Daniele io saluto tutti i tuoi follower e saluto soprattutto te vi è ci aggiorniamo e ciao a tutti buon gioco gg esatto bella ragazzi grazie Grazie a tutti.